Una mostra, approfitto di questa occasione, una parola con due amici, Lorenzo Puglisi e Omar Gagliani che è in angola brevissimo, fatta in collaborazione con il Comune di Milano dove noi siamo partner e si può annunciare qua dove è la mostra che lei cobra. L'accuro insieme a Maria Fratelli che è in arrivo, infatti sto guardando se per caso fosse arrivata. È una mostra dedicata a Omar Gagliani e a Lorenzo Puglisi che tra l'altro è in sala dedicata a visioni di luce e di tenebra all'interno della chiesa di San Sisto, ora studio Museo Francesco Messina. Inauguriamo il prossimo mercoledì 23 maggio alle 17.30 e sarà un'esperienza a mio parere particolare. I pentori contemporanei rifanno pane l'altare all'interno rifacendosi all'iconografia religiosa di questa piccola chiesa barocca. Grazie della tua collaborazione.